Palla a volo, ieri ultima della stagione regolare in Serie A2, la SIECO in pavida Ortona ha perso in casa al tie-break contro il Castellana Grotte. State vedendo alcune immagini parziali, 25-22, 23-25, 21-25, 25-23, il quinto set 8-15 in poco meno di due ore di gioco. Si tratta di un epilogo piuttosto deludente, visto che la SIECO aveva la possibilità di conquistare, in caso di successo, il terzo posto invece finisce al quinto. Giocherà i play-off contro Siena dopo Pasqua.